Per 30-40 secondi mi sono visto in terza persona. Non sapevo che ne sarebbe stato di me. La debolezza è un fallimento, ma la fragilità è una grandissima ricchezza. La più grande bugia è dire che siamo tutti uguali. Credo che la diversità in realtà faccia paura perché è una cosa sconosciuta. Storie straordinariamente normali. Da lunedì in seconda serata.